ecco qua cari amici un'opera di achille concerto don ernando di san martin leonida edizioni leonida edizioni cari amici leonida edizioni achille concerto l'opera mia appena pervenuta cari amici ecco qua achille concerto ma io quando si tratta di un'opera di achille concerto non mi accontento di una sola copia non mi accontento di una sola copia mi sono appena arrivate per posta le vedete tre copie tre copie di achille concerto io avevo appena video recensito l'opera sogni incantati sogni incantati ed ora mi accingo a leggere quest'opera vedete leonida edizioni mi accingo a leggere quest'opera ma si deve avere pazienza perché io ho già 80 anni compiuti ho già 80 anni compiuti e devo fare tante cose sul web perché c'è un canale youtube youtube che ha 15 mila iscritti 11 mila video oltre 10 milioni di visualizzazioni e poi rispondo rispondo a circa mille messaggi pro die pro die da youtube da facebook da twitter ed anche sulla mia gmail la casa editrice leonida edizioni che ha da poco pubblicato la mia opera eccola qua la mia opera da poco pubblicata da poco pubblicata poi tra l'altro presto mi perverrà mi perverranno alcune copie dell'opera di emilio battaglia la radice del cubo quindi la mia giornata sarà piena sarà piena sarà piena ecco qua cari amici ecco qua io avevo già recensito video video recensito sogni incantati di achille concerto ed ora mi accingo a leggere questa opera e a farci una nuova bella video recensione ecco qua achille concerto io lo conobbi nel giardino botanico di gallico in reggio calabia dove c'era la fiera del libro era il luglio 2019 eccolo qua achille concerto bene cari amici bene cari amici ma io quando si tratta delle opere pubblicate da la casa editrice leonida ne voglio tre insieme due o tre insieme eccole qua molto bene molto bene caro editore domenico polito a te editore ad achille concerto a a a enrico battaglia e a tutti voi tanti cari saluti da serafino massoni